La sua passione per la pittura, il disegno e l'incisione non si è mai affievolita in 50 anni di attività, viaggi, incontri. Il maestro Domenico Fratiani ha saputo confrontarsi con l'arte in generale, artisti del passato ma anche a lui contemporanei, senza mai perdere la sua identità, la sua voglia di sperimentare e di analizzare l'animo umano, la realtà, anche il suo molise attraverso metafore espressive. Le sue incisioni restano un esempio del suo pensiero artistico. A Roma, in uno dei musei internazionali dell'incisione, l'Istituto Nazionale per la Grafica, vicino Fontana di Trevi, Fratiani esporrà per due mesi, dal 6 marzo al 4 maggio. Esposizione dal titolo I segni dal profondo, 50 anni di ricerca incisoria dal 1964 al 2014. Il singolare come questi 50 anni di attività incisoria vadano poi a coincidere con i 50 anni della nascita della regione molise. L'orgoglio di appartenere ad una regione senza la quale non sarei il pittore che sono, è importante questo, perché sono felice che a Roma io vado ad esporre un pezzo della mia terra, che è un pezzo particolare, perché sono i ricordi, sono le passioni, sono anche le gioie e anche le tragedie. L'evento è stato presentato nella sala della giunta regionale da Domenico Fratiani e dal governatore Frattura. In collaborazione con la Fondazione Molise Cultura si era pensato di fare un trittico, diciamo, Roma, Campobasso, Biennale, Biennale Nazionale. Cioè la mostra di Roma verrebbe riportata a Campobasso, integrata però con il percorso pittorico, quindi sarebbe un'antologica complessiva in cui si va a raccontare graficamente e pittoricamente e tutto quanto, abbinata anche all'ottava edizione della Biennale dell'ingezione italiana contemporanea.